La formazione sul governo aperto è massiva, online e gratuita e verte sui temi della partecipazione pubblica, della trasparenza e dell'integrità. I percorsi formativi si uniscono alle molteplici buone pratiche che l'Italia attua nell'ambito di politiche del governo aperto e nascono all'interno del progetto OpenGov promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e Forma SPA. Finora sono stati progettati e offerti quattro corsi online, MOOC, per un totale di 12 edizioni. Coinvolgere i cittadini nella definizione delle politiche pubbliche è uno degli elementi fondanti del governo aperto. Il corso racconta come sviluppare iniziative di partecipazione pubblica, concentrandosi soprattutto sulle ricadute positive per i cittadini e per le istituzioni. Garantire l'accesso all'informazione pubblica è la condizione indispensabile per rafforzare la trasparenza, valorizzare il patrimonio informativo pubblico e creare nuove occasioni di sviluppo economico grazie all'utilizzo dei dati aperti. Il corso OpenData, a partire dalle nuove linee guida definite da Agid, racconta come e per quali motivazioni le pubbliche amministrazioni devono rendere aperti i propri dati. La capacità del decisore pubblico di rendere conto dei risultati si unisce all'impegno della società civile per un costante monitoraggio passo dopo passo dei risultati raggiunti, dei modi in cui sono stati conseguiti e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento. Sono questi temi che abbiamo esplorato nel corso Accountability. La trasformazione digitale offre alle amministrazioni l'opportunità di migliorare d'apporto con i cittadini attraverso l'erogazione di servizi semplici da usare, inclusivi e progettati a partire dalle loro esigenze. Il corso illustra i principi teorici e gli strumenti pratici per realizzare servizi digitali di qualità. La formazione sul Governo Aperto offre una vasta gamma di risorse didattiche. Oltre ai materiali di apprendimento autonomo come video-lezioni, video-interviste, tutorial, dispense e approfondimenti, sono disponibili anche webinar che consentono ai partecipanti di interagire direttamente con esperti del settore. I corsi includono anche test di verifica e attività di esercitazione, che permettono ai partecipanti di mettere subito in pratica le conoscenze acquisite e di apprendere in modo collaborativo tramite la revisione tra pari. Il coinvolgimento dei partecipanti è elevato anche grazie alla presenza costante di tutor, che offrono guida e supporto durante tutto il percorso formativo. L'accesso ai contenuti è disponibile 24 ore su 24, consentendo una gestione libera del tempo di apprendimento. I numeri testimoniano il successo di questa iniziativa. Negli ultimi 12 mesi oltre 7.800 le persone iscritte ai corsi, più di 3.400 i partecipanti che hanno completato il percorso, con un gradimento pari a 4,6 su 5. Frequentare i 4 MOC con una implementazione articolata ricca ed interessante ha rappresentato un percorso di crescita professionale, che mi ha dato non solo nozioni, ma soprattutto consapevolezza del lavoro nella pubblica amministrazione e del ruolo del dipendente pubblico a servizio del cittadino. Il corso pendata è stato molto interessante e c'è stato molto da imparare anche per chi come me si interessa di questi argomenti già da un po'. Ho apprezzato particolarmente la formula che alterna alle parti teoriche e anche approfondimenti pratici. Ho seguito anche alcuni degli altri corsi e spero che siano disponibili presto iniziative simili, perché sono veramente veramente interessanti. Il livello di partecipazione e l'alto gradimento espresso su UOC ci confermano un interesse molto ampio da parte delle amministrazioni sui temi del governo aperto. Questo deve farci riflettere sulla necessità di organizzare ancora ulteriori attività formative e utilizzando sia strumenti più strutturati come il syllabus, sia iniziative formative ulteriori con carattere di continuità. Grazie.